Cari spettatori. Benvenuti nel nostro canale. Oggi abbiamo un argomento scottante che ha tenuto banco nelle ultime settimane. Il licenziamento di Marco, Morgan, Castoldi da X-Factor. Ma c'è di più di quanto si veda in televisione. Abbiamo raggiunto Fedez per farci raccontare la sua versione dei fatti e ci sono rivelazioni che sicuramente non vi aspettate. Quindi, tenetevi pronti per un'intervista senza filtri che scava a fondo nella questione. Fedez. Intervistato da Valerio Staffelli durante la consegna del tapiro d'oro. Si apre come mai prima d'ora riguardo al licenziamento di Morgan. Il rapper getta luce su comportamenti gravi avvenuti al di fuori delle telecamere. Motivando così la decisione di allontanare Marco Castoldi dal talent show. Il 34enne non esita a confrontarsi con le accuse di Morgan. Rivelando di aver già contattato l'ex collega giudice. Le dichiarazioni di quest'ultimo sono così pesanti che Fedez minaccia di rivolgersi alla giustizia se non verranno smentite pubblicamente. L'artista respinge con forza le insinuazioni riguardanti presunte aggressioni fisiche. Sottolineando di non aver mai sollevato un dito contro Morgan. Fedez fa luce sulla sua opposizione alla permanenza di Morgan nel programma già da aprile. Sottolineando comportamenti poco professionali e atteggiamenti aggressivi del collega negli anni precedenti. Inoltre, rivela che la decisione di Sky di assumere Morgan come giudice è stata presa senza consultare i membri della giuria. Il rapper insiste sul fatto che la sua opposizione non era basata solo su opinioni personali. Ma su questioni comportamentali e valori discordanti. Quindi, cari amici. Il quadro che Fedez dipinge è molto diverso da quello che abbiamo visto in televisione. La questione va oltre le dinamiche di X-Factor. coinvolgendo aspetti personali e comportamenti gravi. Siamo curiosi di sentire la vostra opinione nei commenti qui sotto. E se non volete perdere nessuna delle nostre esclusive interviste e approfondimenti, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e attivare le notifiche. Grazie per essere stati con noi. Ci vediamo al prossimo video.